Diventano di fatto un atto di guerra se non saranno in qualche modo rispettati gli impegni che voi chiedete al governo di assumere. Non siamo contro i tagli, però bisogna distinguere le regioni che spendono bene, quelle virtuose, da quelle sprecone. Rifiuto il principio che le regioni sono centri di spreco. La regione Lombardia è un esempio di virtuosità. Costo pro capite dei dipendenti della regione in Lombardia 19 euro, altre regioni 220 euro. Noi spendiamo bene, spendiamo poco. Se venissero applicati i principi, i costi, il modello della regione Lombardia a tutte le regioni, si risparmierebbero ben oltre 4 miliardi, addirittura 10 miliardi. E' quello che chiediamo, di premiare i virtuosi, i comportamenti virtuosi e di punire chi spreca distinguendo tra regione e regione. Presidente, lei ha lanciato una sfida di fatto a Matteo Renzi. Sì, lui ha detto che è d'accordo sui costi standard. Benissimo, noi siamo disponibili come Lombardia e come regioni virtuose a applicare concretamente questo principio. E la sfida è, caro Renzi, adotta questo principio e di miliardi ne risparmi 10, non 4. In caso contrario, le regioni virtuose che sono già ridotte all'osso, dove sprechi non ci sono, come la Lombardia, noi saremo costretti a ridurre i servizi e chiudere gli ospedali. Non credo che Renzi voglia questo, ma l'effetto della legge di stabilità è certamente questo. Grazie.